Per la vostra associazione ospitare questi bambini è importante? È un orgoglio, è un orgoglio perché noi facciamo questo sport con grande passione, veramente. E quando troviamo queste realtà, che sono realtà veramente difficili da trovare, in cui ci sono tanti ragazzi che con senso di volontari, sono dei volontari in tutto, che fanno quello che fanno, hanno spinto noi a ospitarli e a far conoscere, prima di tutto il tennis, che è il nostro sport di passione. Tennis e bici-tennis, faremo anche bici-tennis. E inoltre cercheremo di far passare una divertente giornata a tutti i bambini, facendo conoscere anche la nostra associazione, che fa sport prevalentemente. A noi interessa fare sport, e sport è quello vero, quello fatto proprio con passione, di divertimento, fatto di tanto divertimento e soprattutto di aggregazione. Jacopo, qual è il senso della presenza vostra oggi qui? Ma sicuramente oggi è un'importante giornata di aggregazione, di crescita per ogni bambino e anche per noi animatori, perché comunque lo sport è sempre uno strumento per unire persone di tutte le età. Quanti sono i bambini qui del Grest? 200 all'incirco. È vero che siete tanti bambini e tanti animatori? Sì, sì. Come nasce questo spirito del Grest? Ma passione, voglia di fare, forza di volontà. Forse queste tre sono le componenti principali che poi ogni anno ti spingono a dare nonostante tutto. Presidente, tutti questi bambini così chiassosi, tra virgolette, qui è una bella soddisfazione. Meraviglioso, meraviglioso. Come dicevo ieri, è la seconda volta che ospitiamo questi bambini. Per noi è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Tutto lo staff del CDA, ma anche i ragazzi che fanno scuola, si sono messi a disposizione per far passare una piacevole giornata a questi bambini nei campi da tennis, per far conoscere il mondo del tennis a tanti bambini che purtroppo ancora oggi non lo conoscono. Fortunatamente c'è grande partecipazione, c'è grande entusiasmo. La società ha voluto continuare questa collaborazione con i Freedom e continuerà negli anni che verranno.